buon anno nuovo ma come doc sei impazzito oggi il primo settembre buon anno nuovo si gente inutile che ci giriamo attorno lo sappiamo tutti che l'anno inizia ufficialmente il primo settembre gennaio si è vero sui calendario ma il vero anno inizia il primo settembre e oggi è iniziato il nuovo anno anno della nostra vita finite le ferie per molti ricomincia la scuola si ricomincia a lavorare ricomincio dei buoni propositi e a tal proposito hai già fatto i buoni propositi per il nuovo anno dimmi quali sono dei commenti io li ho fatti si li manterrò sì di solito li mantengo quindi dai buon anno nuovo